ma vieni a venire c'è uno che è stato in Italia caracchino che fa? la pesciame sa ma tu sei là? si non fai ci sento ma tu sei? aspetta di me dì maiale mi dici perfetto scerozzo maiale aspetta che davvero aspetta tu compio tu mi ho fissato la serrata per la pesciata questo ronzo maiale che è insegnato sei tu quel che è fissato lì? aspetta che cosa è fissuto me lo sento compio ma che urli? ma come che urli? c'è uno che ha fissato della serrata la vostra città si è uno con cappetta ma che sta fissato? ma come sta fissato? ma che sta fissato? ma come sta trattando? ma dove è? il meno ma dove è? il meno ma perché? perché ce l'ho fissato lì ma chi è? ma mica ve l'ha fissato ma come che andai a fissato? l'ho visto io ma il pisciato l'hai visto? ma si voi ve la che culo mi hai visto o no? e che ho visto? ti ha fissato lì ma sei sicuro? ma come la faceva? si rossa ma va la fa la culo ma che cazzo ti ho fissato lì ma sei sicuro? si si ma come la faceva? si rossa ma va la fa la culo adesso aspetta di qui ma che cazzo ti ho capito metti le braccia a conserdi ma che metti? metti le braccia a conserdi ma che metti? mi hai rotti i coglioni voglio scappare qui l'ho fissato la serrata tu non mi fai scappare perché mi fai scappare? perché? eh eh perché? perché mi fai scappare? scusate mi scappavano ma è un po' stronto che sei vato lì stronto testa mi scappavano un goccio d'acqua ma che cazzo e la prostata non la tenevo è nata bene che se c'è la parte che sta dell'acqua bollita la butti giù si c'è l'acqua bollita di lì comunque la fai sulla tasca guardate che ti do io bello le rocchia quindi morale della storia tutto bene quello che finisce bene è vero no no se la finisce bene che a te partire il conto dopo che minaccia che minaccia no 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 che minaccia il conto dopo